Siracusa, ricettazione, polizia denuncia a due minori e un uomo per minacce gravi. Il pomeriggio di ieri agente della volante in servizio di controllo del territorio, giunte all'altezza di via Bonincontro, hanno intercettato e identificato due minori a bordo di un ciclomotore. Da una verifica accurata si accertava che il ciclomotore in questione era di provenienza furtiva e due giovani rispettivamente di 14 a 16 anni sono stati pertanto denunciati alla competente autorità giudiziaria affidati ai genitori. Il mezzo è stato restituito all'egittimo proprietario. Inoltre nella serata di ieri agente della volante sono intervenuti nei pressi di un condominio di via Luigi Spagna per un'accesa lite tra vicini di casa. Dopo aver riportato la calma gli uomini della volante hanno fatto luce sull'episodio e denunciato un uomo dei 33 anni per gravi minacce aggravate dall'utilizzo di un coltello. Il diverbio tra due gruppi familiari è probabilmente riconducibile ad antichi dissapori causati da rapporti di cattivo vicinato.